Quando a settembre 2016 ho iniziato a girare e preparare i primi video per il mio canale non pensavo che sarebbe arrivato questo giorno, il 5 agosto 2017, in cui avrei potuto dire è finito il primo anno. Ed è finito perché, in questo momento perché l'ho deciso io, ho pensato di prendere questa pausa di tutto il mese di agosto, innanzitutto perché avendo trattato nella maggior parte dei miei video argomenti scolastici, era inevitabile che durante questo mese il canale si sarebbe spopolato, basta vedere i numeri e poi perché preferisco pensare un po' meglio a come preparare la prossima stagione, vedere di incrementare la qualità dei video e magari anche trattare argomenti diversi da quelli che ho trattato finora o comunque arricchire i contenuti. Ho pensato quindi di fare questo video per salutarvi, per dirvi buona estate innanzitutto, ma in primis per ringraziarvi, tutti voi che mi avete seguito fino ad adesso, siete quasi in 3000, è un bel numero che non mi sarei aspettato di riuscire a raggiungere in questo primo anno, dato che comunque quando a settembre iniziai non pensavo nemmeno che sarei arrivato a questo punto, io devo ringraziare l'insistenza anche di mia madre specialmente, ma poi anche comunque una sorta di spirito, di iniziativa che ho voluto metterci e di passione, perché in realtà il canale era nato così, a me piaceva parlare in particolare di queste tematiche, le avevo approfondite particolarmente bene al liceo e mi sarebbe dispiaciuto perderle o comunque dimenticarmi quello che avevo fatto durante questi anni, così ho detto beh, faccio delle registrazioni, di me che parlo, magari possono essere utili a qualcuno, ma come avete visto anche negli ultimi video che ho caricato, quello dedicato al riscaldamento globale o un altro dedicato alla democrazia, ho iniziato a parlare anche un po' più a ruota libera, cercando di trattare dei temi anche di attualità un pochino più larghi per poter dare anche uno spirito critico, mio punto di vista sulla realtà e cercare alcune incidenze in questo angolino di web che per ora rimane tale. Qualcuno avrà visto che ho iniziato anche a monetizzare alcuni miei video, sotto alcuni potete vedere pubblicità e questo perché ho pensato che trovando anche una fonte di guadagno da questi video avrei potuto lavorare con più serenità, cioè o almeno dedicarmi a questo e non essere obbligato a cercarmi un lavoro vero. Ma torniamo al perché del canale, vi stavo dicendo per parlare appunto di questi argomenti scolastici, per venire in aiuto a chi anche quest'anno farà gli esami di maturità, ho pensato che dalla prossima stagione devo assolutamente inserire anche dei video di fisica perché non vorrei portare sfortuna a quelli che l'anno prossimo faranno la quinta liceo scientifico, ma è molto probabile che sia l'anno in cui la seconda prova sarà dedicata a fisica e studiando io fisica non vedo perché dovrei sottrarmi a fare qualche video dedicato alla mia passione in fondo. Oltretutto tra i miei ispiratori di quello che sto facendo qui su YouTube comunque la mia ambizione sarebbe di raggiungere il livello di Derek Muller per fare un nome che è il proprietario del canale Veritasium che stimo moltissimo e quindi l'idea un po' che ho pensato è quella di costruire questi video e tripartirli sostanzialmente facendo anche dei video un po' più lunghi, magari di un quarto d'ora, in cui potremmo vedere con un esperimento o qualcosa, una dimostrazione di quello che è il fenomeno fisico che poi tratteremo parlarne qualitativamente e poi per i più interessati o per chi comunque avesse voglia di approfondire vedere una trattazione un po' più matematica e quantitativa e dunque rigorosa del fenomeno saranno video ovviamente più lunghi e anche più distanziati tra di loro però mi farà piacere anche che mi faceste sapere nei commenti qualche argomento che potrei trattare a settembre, quando tornerò a fare i video, intanto ad agosto ovviamente continuerò a ragionarci sopra e a vedere di riuscire a preparare qualcosa in vista della prossima stagione e come avete visto anche lo schema dei commenti secondo me sembra funzionare molti video caricato quest'anno erano stati ispirati da qualche riflessione nei commenti o da qualcuno che appunto aveva chiesto di parlare di un argomento piuttosto che di un altro e quindi questo era sostanzialmente quello che volevo dirvi in quest'ultimo video di quello che ho chiamato prima stagione, poi in realtà non ci sarà un gran bestacco, almeno non penso che sia tale principalmente si vedrà dalla cadenza dei video, come avete visto ero partito l'anno scorso cercando di metterne tre alla settimana poi ho dovuto ridurre nel secondo semestre a due, inevitabilmente per ragioni di tempo e comunque non voglio negare che sia un impegno abbastanza pressante e alla fine quest'anno ho caricato 94 video con questo, dovrebbe essere e sì, ritengo che alcuni probabilmente non li metterei di nuovo altri mi sono piaciuti di più, altri di meno ma credo che alla fine sia stato un lavoro di cui posso essere soddisfatto quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui mi chiedo ovviamente di condividere perché più gente mi riesco a raggiungere più ho anche la motivazione a continuare e migliorare sempre di più la qualità vi auguro una buona estate, un buon mese di vacanza spero che porti consiglio anche per me sotto questo punto di vista da Belluno dove sarà un 3-4 gradi in meno rispetto al resto d'Italia che altrimenti in questo momento sarà già sciolto è tutto per il momento e quindi ci rivediamo a settembre grazie a tutti